Stiamo lavorando per voi, questo in sintesi il messaggio che arriva da Palazzo Iaconi in queste ore per bocca dell'esperto del sindaco Filippo Cavallo che ha in chiarico anche la manutenzione delle arterie cittadine. La situazione, che riguarda in particolare le buche delle strade, alcune come ad esempio in Via Como, sono davvero impressionanti e in questo momento monitorate costantemente e già sono stati avviati i primi interventi con priorità assolute per alcune arterie che sono quasi impercorribili dagli automezzi. Negli ultimi giorni il maltempo ha concesso un po' di tregua e le squadre impegnate a risistemare il manto stradale hanno già cominciato dalla periferia. In queste ore però potrebbero esserci ancora problemi a causa di possibili precipitazioni al nostro territorio per cui questa evenienza, acclarata anche dagli esperti meteo, potrebbe rallentare il lavoro degli operai. Quindi a prima cosa è augurarsi che torni il maltempo in maniera costante, solo così le strade cittadine potranno rifarsi quel look da tutti auspicato.